La vendetta per un'aggressione subita quasi due mesi prima, lavata con il sangue, gli investigatori della polizia indicano in questo il movente dell'omicidio di Giuseppe Caracciolo, il 48enne ferito in piazza della Repubblica a Canosa di Puglia lo scorso 12 luglio, morto poi all'ospedale di Andria. Forse non doveva essere l'unico obiettivo dell'assassino. Matteo Di Nunno, l'81enne accusato del delitto, avrebbe voluto punire anche un amico della vittima. Entrambi lo avrebbero provocato e picchiato per fatti, emerge alla vigilia dalla convalida del fermo legati all'omicidio di Claudio Sansonna, avvenuto nel 2001, episodio per il quale l'anziano aveva da poco finito di scontare una condanna a 18 anni di carcere. In Germania, quando era emigrato per lavoro, ne aveva commesso un altro. In piazza ha fatto fuoco la ricostruzione degli agenti con una pistola salve modificata, fondamentale l'aiuto dei testimoni della scena. Se si commettono degli omicidi in piazza è evidentemente perché c'è un senso di impunità, perché si pensa che i cittadini non collaboreranno mai. Qui i cittadini hanno inteso collaborare, ci hanno offerto elementi che se fossero valutati da soli sarebbero anche di per sé sufficienti. Poi abbiamo tutti gli altri elementi che ha acquisito la polizia giudiziaria, coordinata dal pubblico ministero, ma dobbiamo, credo, essere contenti. Nell'inchiesta è coinvolto anche il figlio di Matteo Di Nunno, Roberto, di 48 anni, in casa, del quale la polizia ha trovato l'arma del delitto. È un territorio assolutamente da monitorare con particolare attenzione. Credo che la prossima istituzione della questura sia un tassello fondamentale.